Dai colori sociali rosso-blu della Massa Martana al nuovo tappeto verde di Zecca dopo mesi di intenso lavoro. E' proprio a quattro giornate dal termine la formazione massetana torna a calcare il proprio campo dopo le trasferte casalinga al Franco Martelli. Il sindaco Maria Pia Bruscolotti ha tagliato il nastro che ha ufficializzato l'inaugurazione del nuovo campo del comunale di Massa Martana. Questo proprio qualche minuto prima di un incontro di vitale importanza contro il Sansepolcro che per i massetani vale quasi un intero campionato in chiave salvezza. In merito a tutto questo abbiamo anche ascoltato il primo cittadino e il vice sindaco nonché anche l'assessore allo sport Francesco Federici. Una giornata bella per lo sport di Massa Martana in particolar modo per la nostra squadra di calcio, per la nostra prima squadra di calcio ma anche per l'altra squadra l'atletico Massa. Perché restituiamo dopo una stagione di sacrifici che ha visti costretti a giocare in un altro stadio il nostro nuovo campo sportivo completamente ristrutturato con un manto erboso davvero bellissimo come si può vedere. È una serie di investimenti che l'amministrazione comunale ha fatto in questi ultimi cinque anni a favore dello stadio per un importo di circa 125 mila euro. Perché oltre al manto erboso abbiamo anche riqualificato, risistemato, ristrutturato i nostri spogliatoi, le tribune, il campo in erba sintetico. Un investimento molto importante perché lo meritano anche i nostri sportivi, in particolar modo la società calcio di Massa Martana che ha dato dei grandi risultati a tutti noi. Voglio ricordare in particolar modo il fatto che militiamo in eccellenza pur essendo un piccolo comune, sappiamo le difficoltà che le società sportive incontrano in questi anni. E ricordo ancora la bellissima esperienza e il bel risultato della Coppa Italia a livello regionale che poi ci ha visto arrivare fino alla semifinale della Coppa Italia a livello nazionale. E quindi noi riteniamo che lo sport, che è una parte importantissima della vita della comunità, voglio dire anche di tutti i nostri giovani che aderiscono a questo sport dall'età più piccola. Si è creata anche una rete insieme ai giovani di Todi e quindi noi dobbiamo sicuramente come amministrazione essere vicini a chi lavora tanto durante l'anno proprio per offrire non solo il divertimento ai cittadini ma anche un'attività sportiva che sappiamo fa bene per la crescita dei nostri ragazzi e sicuramente è un volano per portare anche il nome di Massa Martana fuori dei nostri confini. Dopo i buoni propositi dell'amministrazione comunale passiamo all'avverdetto del campo. Assenze importanti nel Sansepolcro come Valori, Gorini, Alcaleni e Giorni, Biedolini e Vighi invece assenti nei Massetani. Massa Martana è in cerca di punti pesanti di fronte al proprio pubblico dopo tanto tempo. Gli ospiti in cerca di un riscatto dopo il pareggio con il Ponte Valleceppi. Un riscatto ben organizzato dalla formazione di Bricca che gioca un primo tempo d'applausi a un Massa Martana che viene travolto dalla velocità di gioco degli avversari e da molti errori dei giocatori in campo. La ripresa non è migliore del primo tempo anche se i locali cercano di riaprire la gara ma si sapeva già che era un impresardo. Un passivo di quattro reti dopo 45 minuti la dicono tutta sulla prestazione del Rosso Blu. Ma veniamo alla cronaca. La cronaca ci dice che al primo minuto arriva la doccia fredda per i padroni di casa che subiscono il primo gol. Lancio in verticale per Scarselli che taglia in due la difesa massetana con l'attaccante bianconero che la mette alle spalle di Luciani. Il Massa Martana non ci sta e l'ottavo risponde con un diagonale a fil di palo di Gesuele. Veniamo alla minuto 15, ancora pericoloso il Sansepolcro. Braccini l'appoggia per Durso al limite dell'area ma il tiro finisce di poco sul fondo. Al minuto 22 il Massa prova a scardinare la difesa ospite da calcio piazzato. Bagnato mette in mezzo un pallone per Gesuele ma l'incornata è sopra la traversa. Il Massa sbanda in difesa e alla venticinquesimo sull'asse Scarselli-Durso per quest'ultimo è un gioco da ragazzi mettere la palla in rete. Troppe le imbucate in contropiede che subisce la formazione di casa come al ventottesimo quando Cano al limite si trova la palla sui piedi con la difesa larga e indovina il tiro a fil di palo che si insacca alla destra di Luciani. Non ne sente in questa occasione il portierino da colpe. È il minuto 42 quando Durso prova ancora i riflessi di Luciani ma questa volta l'estremo difensore massetano devia sopra la traversa in calcio d'angolo. Tutto facile per il Sansepolcro che al 43 realizza il quarto gol passaggio filtrante per Braccini in area e il numero 7 bianconero timbra il cartellino del 4-0. Un minuto di recupero e squadra negli spogliatoi un parziale pesante per il Massa Martana dopo solo 45 minuti di gioco. La ripresa. La ripresa si apre con il gol del Massa Martana alla quarta. Bagnato riceve palla da Pugnali si porta al limite dell'area, carica il destro e il pallone finisce in fondo al sacco alla destra di Vaccarecci. Al minuto 6 della ripresa i massetani protestano per un atterramento in area di Marco Angeli ma per il direttore di gara è solo calcio d'angolo. Bisogna aspettare il minuto 38 per segnalare la pericolosità della Sansepolcro. Ancora Massai che si libera bene della marcatura di Nulli Costantini ma il tiro da corta distanza è deviato in calcio d'angolo. Minuto 42 il Massa Martana accorcia le distanze con un gol di Gesuele cross di Maxime Ferrante e sforbiciata in area di Gesuele che incrocia bene e palla imprendibile per Vaccarecci. Due minuti più tardi alla minuto 44 calcio di rigore per il Sansepolcro per un tocco di mani di Nulli Costantini segnalato dalla prima assistente dell'arbitro. Dal dischetto Vabracini che spiazza Luciani ma non finisce qui perché Massai prepara il sesto gol di Matteo Boriosi che in diagonale fulmina Luciani. Finisce con un pesante 6 a 2 in favore del Sansepolcro e un debutto amaro per i locali sul nuovissimo terreno di gioco sconfitta pesante quindi per il Massa Martana al quale restano solo tre gare per non giocare i play-out. Allora siamo con Andrea Bricca tecnico della Sansepolcro. Mister commentare un 6 a 2 viene facile no? Però insomma è un gran primo tempo io ho definito un primo tempo d'applausi e un 4 a 0 insomma la partita chiusa una partita che poi diceva ben poco. Sì sì no partita chiusa sì perché siamo stati bravi noi a a controbattere ogni loro azione dopo quattro minuti inizio secondo tempo abbiamo preso gol quindi è logico che loro aggredivano molto alto qualcosa dietro lasciavano. Anche secondo me è stato un primo tempo veramente importante che riuscivamo abbiamo fatto delle bellissime giocate ci riusciva a quelle giornate che riesce un po' tutto sono molto contento perché qualcuno scusa mi direbbe la faccia dell'assenza no? Beh infatti stavo dicendo c'era qualche ragazzo che ha giocato che ha giocato poco e significa che questo è un gruppo è un gruppo importante che chi gioca è all'altezza della situazione quindi sono contento che gli attaccanti hanno fatto gol quindi è stata una giornata molto piacevole per noi. Allora Stefano Fabiani vicepresidente del Massa Martana partita diciamo è chiusa dopo i primi 45 minuti di gioco oggi il Massa Martana al primo tempo non è sceso in campo insomma è sembrato un atteggiamento che cosa è successo? No non c'eravamo proprio poi l'inaugurazione del campo ci faceva piacere anche fare un bel risultato come magari l'abbiamo fatto da loro all'andata che vincevamo 1-0 e hanno pareggiato oggi non c'eravamo, non c'era gioco loro hanno dimostrato di essere una squadra di un altro livello di una categoria superiore l'abbiamo visto nel gioco nei cambi che sono entrati con un altro spirito purtroppo sono allenati in modo migliore 4-5 allenamenti alla settimana noi purtroppo ne facciamo quasi 3 quindi i risultati poi si vedono quando un campo con l'erba così pesante con il caldo si vede subito che non riesce a reggere la partita non riesce a reggere la partita